Vediamo un poco, vediamo il video di JD e i notti, i notti, i notti, i notti. Gli altri in macchina, le sigarette a persona per la cenere, anima e pena alla vita non sanno chi. Partito bene, o chissà dove sono qui, o che posto sono, o chi in Bologna, in Bologna. Bologna. Trovano un senso, un rifugio nell'eccedere, una soluzione celere non salverà, ma si arrampica, come Edera. Fargo noti nella fede, ogni notte replica, la gente buona perde ogni etica. La ragazza va, la ragazza va un bel po', spinge, spinge ragazza. Sembra tipo Giamma. Gli schiavi sono loro, su, parcheggiata all'area periferica. Momenti di follia, Omar, Erika. Senti la nostalgia, si, della sua estetica. Raccontiamo bugia, una storia epica. Il male levica, l'estate nevica. Ucciso dalle dèi, proprio come Seneca. Quello che non mi ammazza dopo mi rigenera. Chi non mi ama non mi merita. Piò che nessuno dice più la verità. Mi ha fatto molto bene. Chi dice creccio? Bello. Non sarebbe male vedere un gruppo giovane un po' nelle mesi, nelle parti. Ma è stu? A me non piacciono questi balletti qui alla Maria De Filippi, vi dico la verità, non mi piacciono, il rap per me è cosa di strada, sì, so che in America vanno questi balletti con il rap, non mi piacciono, fa molto Maria De Filippi, è arrivato il maestro, è incassatissimo, dopo che ho fatto la canzone con Vacca il maestro è incassatissimo. No vabbè, in occhi troppo stile, troppo stile, cioè è migliorato anche, è migliorato anche, cioè io lo seguo da Quinto Dan, è migliorato un casino in questi ultimi tempi, è tornato in vecchi in occhi, aggressivo, potente, che spacca i culetti eh. Cedere, accedere al prossimo livello, ci sono volte in cui devi toccare il fondo, per comprendere e dare al male un senso, ma i problemi esistono solo per un motivo, essere risolti, così, 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 in questo caso, se voleva. Grazie a tutti. Attitudine, JB, non l'ho mai sentito.